Il progresso non è più quello di una volta. Chi come me studia l'evoluzione ha visto tante volte questa immagine, anche voi. Fa parte del nostro immaginario collettivo, l'avete vista su web, sui giornali. È questa idea che l'evoluzione sia stata una grande corsa verso, non lo so, lo zero o forse l'homo sapiens, di solito rappresentato come un bel maschio bianco occidentale. Noi siamo molto affezionati a questa grande narrazione del progresso. La migliore interpretazione che io conosca è quella dei disegnatori dei Simpson, che naturalmente ci raccontano di un'evoluzione che ha portato inevitabilmente verso Homer Sapien, con quelle dimensioni del cervello non particolarmente rassicuranti. Però c'è dietro qualcosa di profondo in questa immagine. Un grande evoluzionista che è scomparso dieci anni fa, Steve J. Gould, diceva che questa è la nostra più grande iconografia della speranza. Ci piace un sacco questa immagine, perché se le cose fossero andate davvero in questo modo, noi saremmo l'apice di tutta questa storia, il suo frutto inevitabile. È una grande narrazione, molto rassicurante nella sua semplicità. È l'unico modo di raccontare l'evoluzione? No, naturalmente, anche se ci piace molto. Un ragazzo, non ancora trentenne, nella prima metà dell'Ottocento, l'aveva raccontata così, in un modo molto diverso. Stiamo parlando di Charles Darwin, che appena tornato dal suo appassionante viaggio di cinque anni attorno al mondo, si mette a scrivere dei taccuini segreti e ha 27 anni, quindi a chi adesso sta facendo l'università, ha quella età lì, sbrigatevi, perché le rivoluzioni scientifiche si fanno prima dei trent'anni, in una piccola paginetta come questa scrive, io penso che, e cosa sta pensando? I think, sta pensando a un albero, non a una scala del progresso, quindi sta pensando al fatto che l'evoluzione è una storia di diversità, è una storia di ramificazioni, è una storia plurale, è una storia che si alimenta della diversità individuale e a sua volta produce diversità, quindi la biodiversità è il combustibile e anche l'esito dell'evoluzione. Noi abbiamo approfondito molto questa idea di Darwin un secolo e mezzo dopo e abbiamo scoperto che non solo aveva ragione, ma che forse questo non è nemmeno un albero, ma è ancora qualcosa di più irregolare, una sorta di cespuglio della biodiversità e noi siamo dentro questa storia. Guardate questa immagine, questo è l'albero della vita, Darwin avrebbe voluto tanto vedere questa immagine, è stata ricostruita poco tempo fa ed è il trio of life universale, quello che include tutte le forme di vita oggi presenti sulla Terra, almeno conosciute e classificate. Guardatela un po', due terzi della vita è fatta di organismi con una sola cellula, quindi hai voglia di dire che l'evoluzione procede verso la complessità o la grande quantità di cellule, in realtà per due terzi è fatta di organismi con una sola cellula e voi siete lì, siete un piccolo, voi naturalmente, io mi escludo da questo computo per il momento, voi siete un piccolissimo ramoscello, sette rami dovete fare dentro quel piccolo ramoscello degli animali, tra l'altro abbastanza vicino ai funghi, non so se questa cosa vi piace o meno, alle piante naturalmente e poi tutti gli organismi fatti con cellule, con il DNA conservato nel nucleo, quindi vedete quanto è stata straordinaria questa storia di diversità e noi siamo alla periferia dell'impero della biodiversità, ma se fate uno zoom e guardate dentro la nostra storia particolare, quella che è avvenuta da quando ci siamo separati dall'antenato comune con le scimpanzee fino ad oggi, quindi una storia di 6 milioni di anni, che sembra tanto ma nell'evoluzione poi non è così tanto, guardate che cespuglio di forme trovate dentro questa avventura umana, più di 20 specie di hominini, noi siamo una di queste, e cos'è Homo sapiens? È l'ultimo ramoscello, vedete là in alto, di una storia di diversità. Pensate che è una scoperta quasi incredibile che abbiamo fatto due o tre anni fa, è molto recente, sulla Terra fino a poche migliaia di anni fa esistevano almeno 4, 5 forse forme umane contemporaneamente, quindi siamo da soli sulla Terra da pochissimo tempo, una storia di diversità, di imprevedibilità, di contingenza, ed è così ricca questa storia evolutiva perché noi abbiamo sempre vissuto in un contesto instabile, è l'instabilità ecologica che ha fatto la nostra fortuna e che ha fatto questa diversità, e noi siamo qui perché siamo flessibili, abbiamo capacità di modificare i nostri comportamenti per far fronte a questa instabilità ecologica. Allora, quello che vi ho appena fatto vedere fino adesso è un po' uno shock, no? Naturalmente, perché siamo alla periferia dell'impero, non siamo più al centro della biodiversità, non siamo più l'apice di un progresso vecchia maniera. Adesso, in pochi minuti, vorrei però farvi vedere che in realtà non dobbiamo disperarci proprio del tutto, questo messaggio della contingenza della nostra storia potrebbe in realtà essere una grande occasione. Allora, partiamo da questo shock e proviamo a vedere insieme tre spunti che la natura ci suggerisce a proposito della creatività. Il primo è questo, naturalmente, la biodiversità è il nostro progresso, è il titolo di questa giornata, dal mio punto di vista vale letteralmente, nel senso che la biodiversità si può intendere in vari modi, la biodiversità delle specie, naturalmente, che abitano negli ecosistemi, che li popolano e che li trasformano, ma quello che noi vediamo recentemente è che la biodiversità forse è un concetto più ampio. Qualcuno parla oggi, abbiamo pubblicato un paper due anni fa, abbiamo parlato di diversità bioculturale. Perché? Perché molte ricerche scientifiche ci fanno vedere questa cosa, se voi mappate la diversità nel mondo, vi accorgete che dove c'è il massimo di diversità ecologica, il massimo di diversità delle specie biologiche, c'è anche il massimo della diversità culturale e linguistica. Dove c'è diversità biologica c'è anche diversità culturale e viceversa, gli hotspot sono quasi sempre gli stessi. E voglio ricordare che l'Italia, nonostante tutto quello che abbiamo combinato fino adesso, resta un grande hotspot di biodiversità, sia quella naturale classica che quella linguistica culturale, perché siamo una terra di passaggio, una terra di confronti, di sovrapposizioni continue e facciamone tesoro, perché è davvero il petrolio del nostro futuro, questa diversità. E un esempio abbastanza impressionante, prendete soltanto un'isola continente come la Nuova Guinea, in Nuova Guinea fino al XV secolo si parlavano tante lingue, più di 5.000, quante oggi se ne parlano in tutto il resto del mondo. E ancora adesso solo lì se ne parlano più di 700. Perché? Perché c'è isolamento, c'è diversità, c'è irregolarità dell'ambiente e questo produce diversità culturale, ma anche diversità linguistica e diversità di specie. Quindi forse il primo messaggio che l'evoluzione ci lascia a proposito di progresso è se vuoi progredire aumenta il numero delle possibilità, non ridurle. Il secondo messaggio, anche questo è abbastanza semplice, è riecheggiato già in molti interventi. Noi dobbiamo adattarci all'ambiente, ma noi esseri umani in particolare trasformiamo l'ambiente. E la nicchia ecologica umana non è più soltanto una nicchia naturale in senso classico, ma è una nicchia piena di strumenti, piena di oggetti, piena di simboli, è una nicchia bioculturale. E quello che hanno imparato gli evoluzionisti oggi è questo modello che si chiama costruzione di nicchie. Vuol dire una cosa semplice, vuol dire che noi trasformiamo l'ambiente al quale poi dobbiamo adattarci. Quindi ci adattiamo, sopravviviamo a questo ambiente, ma siamo anche i costruttori di questa nicchia ecologica. E il fatto bello, ma anche inquietante, è che gli evoluzionisti sanno che quando si instaura una dinamica di questo tipo, che è biunivoca, è di tipo costruttivo, il sistema evolve in modo molto rapido e tendenzialmente fuori controllo, quindi in modo imprevedibile. Noi cambiamo l'ambiente che cambia noi e questo accelera tantissimo il processo e i nostri figli si ritroveranno nativi di un ambiente che noi abbiamo trasformato e loro lo trasformeranno e quell'ambiente trasformerà la generazione successiva e quindi è un processo ricorsivo da un po' di tempo a questa parte. Prima non era così, prima era più semplice, dovevamo noi rincorrere un po' l'ambiente. Adesso lo trasformiamo, ma non illudiamoci di essercene tirati fuori, dobbiamo comunque riuscire a sopravvivere a un ambiente che cambiamo noi. Il terzo messaggio è che nell'evoluzione non si butta via niente, nel senso che nell'evoluzione tutto può tornare utile in termini di riutilizzi e riusi. Abbiamo imparato questo schema da tantissime ricerche scientifiche oggi, questi sono tutti esempi di animali che hanno imparato a sopravvivere riutilizzando in un modo creativo, un po' opportunista ma molto molto ingegnoso, strutture che avevano sviluppato per tutt'altre ragioni. E quindi il bello dell'evoluzione è anche questo, tu sviluppi una competenza o un comportamento in un dato ambiente, per una certa ragione, e poi lo riutilizzi con una sorta di bricolage. Naturalmente non tutte di queste specie sono oggi ancora viventi, vedete là in alto l'Ittiosauro e si è estinto, ma non preoccupatevi di questo, nel senso che a lungo termine nell'evoluzione tutte le specie sono estinte per riecheggiare una vecchia battuta. Noi abbiamo 200.000 anni, Homo sapiens, mediamente una specie come la nostra sopravvive alcune milioni di anni, quindi tranquilli, noi siamo molto giovani, siamo una specie bambina, ma stiamo accelerando molto questo processo, quindi dovremmo guardare con attenzione a quello che stiamo facendo. Vi lascio soltanto con due esempi, perché si parla molto di complessità in questa giornata, e di solito alla domanda che cos'è il sistema che ti dà l'idea di maggiore complessità, noi pensiamo alle stelle, all'universo, pensiamo a una giungla rigogliosa. In realtà, sul piano quantitativo, i due sistemi naturali, biologici, più complessi che conosciamo, sono dentro di noi, non fuori di noi. Sono il nostro genoma e il nostro cervello. Sono sistemi di una complessità biologica strepitosa, incredibile, frutto di continui rimaneggiamenti, niente di ottimale, però qualcosa che ha straordinarie potenzialità. E allora, guardate, questo è un signore giovanissimo, a capo di migliaia di ricercatori a Cambridge, si chiama progetto ENCODE, e stanno mappando tutto il genoma, non soltanto quello dei geni, ma anche il modo con cui i geni si regolano, si esprimono e danno come risultato il fenotipo, cioè come appariamo noi esternamente. Una volta si parlava di DNA spazzatura, guardate, lui dice, dovremmo parlare nel futuro di jungle DNA, cioè della giungla di DNA, perché è una foresta fitta, una muraglia di elementi, e non sei mai sicuro di dove sei, ed è abbastanza facile sentirsi perduti dentro questa giungla. ciò che ci influenza e che interagisce con l'ambiente, che abbiamo dentro il nucleo di ciascuna delle nostre cellule, è una giungla genomica, e quindi la complessità è dentro di noi. Poi, allora, se le cose stanno così, e io analizzo questo sistema così complesso, mi accorgo di un altro fatto, che non so se piace tanto agli ingegneri o meno, cioè questi sistemi così creativi, così complessi, non sono ottimali dal punto di vista ingegneristico, sono piene di cose che apparentemente non servono a niente, apparentemente, nel senso che non lo sappiamo, magari interagiscono, entrano in relazione. Allora, un mio amico genetista ha proposto due anni fa il test della cipolla, che è un test di realtà molto semplice, che è rivolto a coloro che pensano che in natura tutto serva a qualcosa, e che qualsiasi base nucleotidica nel genoma umano abbia una funzione, e lui dice, chiedetevi come mai una cipolla ha un genoma che è cinque volte più grande del nostro. Ha cinque volte il numero di geni e di basi nucleotidiche rispetto alla nostra. Ora, con tutto il rispetto per la cipolla, naturalmente, che è una specie dignitosissima, però dubito che voi stiate pensando che la cipolla sia molto più complessa di un essere umano. E quindi questo test, in modo molto semplice, dimostra che per essere complessi non bisogna avere tanti geni, ma quello che conta è come sono in relazione gli uni con gli altri. E questo è quello che abbiamo imparato nei sistemi biologici. Non conta avere tanti nodi della rete, quello che conta è che la rete sia molto interconnessa e sia flessibile, creativa, e sia capace di riconfigurarsi in un modo flessibile. Quindi va bene che la cipolla abbia così tanti geni e noi molti di meno. E l'altro grande sistema complesso che abbiamo tutti dentro la nostra testa è che sfida l'universo là fuori in termini di complessità e Kant stesso, l'aveva detto, è stato citato prima, mi interrogo sull'universo là fuori, sulle stelle e poi su come si sviluppa il senso morale dentro la mia testa, e allora un grande scienziato del passato che è morto l'anno scorso, un premio Nobel per la biologia, François Jacob, vedete, diceva se io guardo il cervello e vedo come è riconfigurato, come è subottimale, come la neocorteccia interagisce con le altre forme, con le altre parti, beh, mi accorgo che questo processo evolutivo assomiglia molto al bricolage. E dobbiamo moltissimo della nostra fortuna e della creatività del nostro cervello al fatto che è stato capace di riconfigurarsi più e più volte e molte strutture del nostro cervello sono state capaci di nascere per una certa funzione, per esempio motoria, e poi sono state riutilizzate per funzioni legate al linguaggio, per esempio, e a competenze molto più complesse. Quindi il bricolage probabilmente è, quello che ci dice alla biologia, uno dei segreti della creatività biologica. Quindi vedete che si può pensare di nuovo a una qualche forma di progresso, ma non è certamente un progresso lineare ed è un progresso che dipende dagli effetti delle nostre azioni oggi. Grazie.